Ci sono operazioni che nel mercato nascono in corsa, trattative che si aprono all'improvviso perché si presenta un'occasione che giorni prima non esisteva, manca solo l'ufficialità, Mamellina e Juve Stabia hanno raggiunto l'intesa per uno scambio a titolo definitivo. Daniele Mignanelli, giocatore che non rientra ormai da tempo più nei piani del sodalizio bianco-verde, si accaserà alle Vespe con l'ex prodotto della Lazio Tommaso Ceccarelli pronto a fare il percorso opposto, 30 anni nata a Roma, indossata anche le maglie di Catania, Monza, Ferralpisalò, L'Aquila e Prato, 239 presenze e 40 reti tra i professionisti. Ceccarelli è un giocatore offensivo che può girare anche da tre quartista e che è molto bravo sui calci piazzati, un acquisto che può permettere a Roberto Taurino di varare il modulo in corso oppure di affidarsi in qualche occasione al 3-4-1-2. Nelle prossime ore ci sarà il cosiddetto nero su bianco. Il futuro di Salvador Aloy resta un punto interrogativo. Avellino e Pescara trattano ancora la cessione del centrocampista calabrese, ma è chiaro che i lupi vogliono chiudere l'affare prima possibile. Appena l'operazione si concluderà, Enzo De Vito tenderà l'assalto a Marco Armellino del Modena e Miscella dopo del Torino, anche se al momento la distanza tra i parti per portare Aloy in Abruzzo non pare colmarsi. Per quanto riguarda Alberto Dossena, il centrale avrebbe trovato da tempo l'intesa con la Reggiana ed il suo di essere Roberto Goretti. Il club emiliano ha provato ad inserire Agostino Camigliano nell'operazione e i lupi vogliono monetizzare da quest'addio. Anche se alla richiesta economica formulata dal presidente Angelo D'Agostino non sarebbe stata al momento accettata dal club di Carmelo Salerno.